Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV che seguono il programma doppio binario. Quest'oggi, come anticipato in apertura, parleremo ancora una volta di Covid, della pandemia, e andremo ad approfondire quelli che sono stati gli effetti del Covid sia durante il lockdown ma anche successivamente in questa fase di riprese, di recupero, nel mondo del lavoro. Come già tutti voi saprete, durante il periodo della pandemia molte imprese sono state costrette a ricorrere allo smart working, uno smart working, se vogliamo anche in alcuni casi forzato, emergenziale, oltre ad altri tipi di strumenti per poter lavorare da remoto e quindi per non fermarsi. Ecco, noi approfondiremo tutto questo, andremo a vedere cosa è successo, quindi andremo così a parlare con un'importante realtà imprenditoriale, poi leggeremo tutto questo anche in chiave normativa e lo faremo proprio qui, quest'oggi, in questo studio con i nostri ospiti, che vado a salutare. Inizierei dalla dottoressa Paola Borromei di SNAM, che ringrazio per essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. E poi a seguire l'avvocato Olimpio Stucchi dello studio legale Unilex, grazie anche lei. Grazie per l'invito. Dunque, se siete d'accordo, io inizierei proprio dalla dottoressa Borromei, da un caso quindi pratico, e quindi andiamo un attimo a raccontare come avete voi vissuto, voi di SNAM, avete vissuto quel periodo così insomma particolare, quello appunto del lockdown, quali iniziative avete intrapreso per poter quindi mandare avanti tutta l'attività e la gestione da remoto. Avete, immagino, siete anche voi ricorsi allo smart working, cosa è successo e poi anche con uno sguardo a quella che è la situazione attuale e anche in futuro cosa, insomma, state facendo in questo momento. Ci racconti un po' quello che ci può dire, insomma, dalla sua esperienza. Volentieri. SNAM è una delle maggiori infrastrutture energetiche al mondo, una realtà, il cosiddetto codice a teco, quindi che doveva garantire in questo periodo, nei mesi passati, la piena continuità del suo business ai fini appunto della sicurezza energetica nazionale. È stata una grande prova, devo dire, nei mesi scorsi. Il mondo si è fermato e SNAM ha avuto la necessità appunto di continuare nelle sue proprie attività. Questo è stato possibile sotto diverse fatti specie. Da un lato sicuramente lo smart working, che grazie alle tecnologie, quindi a questa leva abilitante fondamentale, siamo riusciti a portare avanti le attività e di fatto overnight, il 21 di febbraio, a traslare il lavoro di 2300 persone da una normale attività di ufficio, di sede o addirittura di territorio, ad un'attività che veniva remotizzata, in particolare da casa. Per citare alcuni numeri, abbiamo realizzato, effettuato qualcosa come 165.000 tra call e videoconferenze, quindi 650.000 ore di lavoro da remoto, in una modalità che sicuramente ha imposto dei canoni, dei criteri un po' diversi rispetto a quelli a cui le persone erano abituati, quindi una gestione del tempo molto cadenzata, molto sequenziale, con un'evidente riduzione anche degli aspetti di socialità. Il bilancio è stato estremamente positivo, quindi è un bilancio che stiamo tirando ovviamente in questo periodo per capire un po' le lesson learned, che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. In una fase in cui stiamo cercando di ritornare, per così dire, a una normalità, ma che non è la normalità di prima, quindi è un new normal, una ridefinizione di quelli che sono i canoni del lavoro. In questo periodo abbiamo abbinato appunto delle attività in remoto a delle attività fisiche, ad esempio l'ispacciamento che è un po' il cervello tecnologico che gestisce i flussi di approfiggionamento del gas in ingresso e in uscita nel paese, ha lavorato in una modalità totalmente nuova, quindi abbiamo di fatto segregato, isolato gruppi di persone all'interno di una struttura, costruendo a tempi record delle case, per consentire loro appunto di proseguire nelle attività senza essere a contatto con il mondo esterno. Abbiamo mantenuto i cantieri attivi sul territorio, ovviamente in una percentuale ridotta, però proprio per garantire la continuità. Parlavo di un bilancio positivo perché abbiamo fatto diverse scoperte. Allora, da un lato abbiamo creato un team interfunzionale di emergenza, operativo 24 ore su 24, con tutte quelle funzioni chiave che in azienda dovevano garantire in qualche maniera appunto il presidio, la sicurezza e la business continuity. La sfida più grande è stata quella di motivare le persone a lavorare in maniera diversa, perché anche il ruolo dei capi cambia. Un conto è essere un capo in ufficio con persone fisicamente presenti e disponibili, anche a condividere dei contenuti in maniera più destrutturata, e un conto è da casa dirigere l'attività appunto di decine e decine di persone, nel nostro caso centinaia, migliaia. Una delle leve su cui abbiamo puntato di più sicuramente è stata la comunicazione. Noi quando c'è stata l'emergenza abbiamo contattato alcune realtà cinesi, prettamente cinesi, ci siamo fatti un po' raccontare quali leve fossero state i vincenti in quella fase, e loro ci hanno detto over communicate, quindi puntate tanto sugli aspetti di coinvolgimento delle persone. Quindi a partire dall'amministratore delegato abbiamo lanciato una campagna proprio di engagement all'interno delle persone, che abbiamo portato fino ai social, quindi abbiamo lanciato alcuni hashtag, Snam non si ferma, distanti ma uniti, quindi per chiedere alle persone di raccontare la propria esperienza, anche da un punto di vista emotivo, quindi non solo tecnico, in questo periodo appunto di lavoro da remoto. Abbiamo trasformato quello che era il catalogo, l'offerta formativa di Snam Institute, quindi la nostra corporate university, tutta da remoto, quindi le persone avevano comunque la possibilità di avere anche una serie di leve di sviluppo di cui usufruire a distanza, e siamo andati avanti, quindi ad oggi posso citare ad esempio lato recruiting, abbiamo assunto circa 70 persone senza averle mai viste di persona, di cui una percentuale significativa dei dirigenti, quindi abbiamo persone che oggi si trovano a dirigere l'azienda da pochissimo tempo, da pochissimi mesi, senza che le stesse avessero appunto incontrato durante il recruiting persone all'interno. Come dicevo, oggi siamo in una fase di rientro graduale, abbiamo fatto una scelta blended, tra smart working, presenza fisica in sede, il modello in cui andremo molto a breve sarà permettere alle persone di lavorare su base volontaria da zero a cinque giorni alla settimana, con una soglia ovviamente di occupazione che consenta anche di rispettare criteri ed esigenze di sicurezza. La ringrazio per averci appunto illustrato quelle che sono state, quelle che è stata la sua esperienza all'interno della sua importante realtà internazionale, e poi naturalmente tra un po' ritornerò nuovamente anche a lei per chiederle appunto un ulteriore approfondimento proprio su questi aspetti che già mi ha accennato, ovvero aspetti positivi, poi magari parleremo anche di qualche criticità che ha riscontrato durante questo periodo, dove la normalità era tutta altra cosa, quindi adesso andremo poi un po' a capire insieme quale sarà il futuro, ma ci torneremo a breve. Io vorrei invece passare la parola all'avvocato Olimpio Stucchi, che anche lui è un noto gius lavorista e ne avrà viste tante durante il periodo del lockdown e anche in questo periodo post lockdown. Ecco allora, avvocato Stucchi, io a proposito proprio appunto di quello che ci ha detto la dottoressa qui presente, molte imprese durante il lockdown hanno scelto, anche diciamo contro la loro volontà, si sono dovute adeguare, quindi smart working e altri strumenti pur di andare avanti, pur di garantire una certa continuità e quindi non chiudere, diciamo, i battenti almeno per quel periodo. Io le chiedo allora a questo punto quali saranno le prospettive, cosa ci dobbiamo attendere, cosa le aziende si dovranno attendere nelle prossime settimane, anche in chiave normativa. Ci dia appunto uno sguardo, cosa ci può dire anche dalla sua esperienza, quello che ha vissuto durante il periodo, ci racconti qualcosa? Partiamo dalla situazione di scenario. Gli scenari sono due alternativi, ma molto dipenderà dai numeri dei contagi. Cioè ancora una volta sarà la situazione sanitaria che governerà la realtà economica di questo Paese. Gli scenari sono due perché dipenderanno dall'innalzamento oppure no dei numeri dei contagi. Lo scenario peggiore è sull'innalzamento, è un po' il trend di questi giorni passati, più prossimi. Se si proseguirà nel trend di innalzamento andremo incontro ad un permanere della situazione emergenziale. L'ultimo DPCM scade il 7 di ottobre e lo stato di emergenza dichiarato, meglio, prorogato a fine di luglio, scade a metà di ottobre. Se proseguiranno i numeri dei contagi, proseguiranno a crescere, è praticamente certo che ci sarà un nuovo DPCM e una proroga dello stato di emergenza. Vorrà dire continuare nella situazione emergenziale, vorrà dire continuare con la legislazione emergenziale. Non è quello che ci auspichiamo, ancorché la legislazione emergenziale abbia, se vogliamo, aperto qualche strada che prima non c'era. Quindi uno smart working unilaterale e soprattutto la possibilità di fare ricorso ai TDA causali che erano stati letteralmente ammazzati col ben noto, diciamo così, decreto dignità. L'altro scenario, direi che un po' meno probabile ad oggi, è quello di una diminuzione o di un mantenimento dei numeri di contagi, che vuol dire cercare di uscire dalla situazione emergenziale, ritornare ad una situazione di normalità o di avviamento alla normalità, che vuol dire non trascurare l'esperienza che abbiamo fatto, perché l'esperienza che abbiamo fatto è veramente una milestone nella storia delle aziende, perché ci ha fatto capire come uno strumento del tutto residuale, anzi un po' vituperato prima, come il cosiddetto smart working, che alla fine altro non è, cioè di smart c'è poco a dirla tutta, in realtà è lavoro da remoto, lavoro da casa nella maggior parte dei casi, e questo alla fine non è un gran bene. Infatti ci sono già esperienze nuove a tendere, ipotesi di co-working. In questa prospettiva bisogna andare, le aziende devono fare uno sforzo per ripensare l'organizzazione del lavoro, il metodo blended è sicuramente quello migliore, quello auspicabile su base aziendale, cioè il centro del mondo del lavoro non sarà più la nazione, saranno le aziende, le singole aziende, e questo avrà un impatto fortissimo anche nelle relazioni industriali. Molto interessanti queste osservazioni, poi torneremo con un'ultima domanda di chiusura, in cui appunto le chiederò magari cosa c'è da salvare da tutta questa esperienza, insomma i consigli se vogliamo. Io tornerei invece alla dottoressa Borromea, al quale appunto volevo chiederle, un po' l'ho anticipato già prima. Ecco, durante il periodo del lockdown abbiamo un po' visto quella che è stata la sua esperienza, a questo punto non mi resta che chiederle, anche in maniera molto sintetica, se vorrà darmi questa risposta, quali sono gli aspetti positivi, se ce ne sono stati, mi auguro di sì naturalmente, e criticità che ancora devono essere risolte durante appunto questa esperienza di lockdown, durante questi cambiamenti nelle modalità di gestione del lavoro, della riorganizzazione delle risorse umane. ci può dire, insomma, cosa c'è da salvare o cosa invece è da buttare o da rivedere, visto che ci stiamo avviando, come ha detto anche lei, verso una nuova normalità. Innanzitutto condivido molto le riflessioni dell'avvocato Stucchi. Certamente gli strumenti di lavoro e l'organizzazione del lavoro sarà in funzione dell'evoluzione del quadro epidemiologico, ma penso che siamo a un punto di non ritorno, quindi le vecchie abitudini sono già asincrone rispetto alla fase che stiamo vivendo oggi, soprattutto alle esigenze delle persone. Se dovessi riassumere in due parole la risposta è people centricity, cioè quello che abbiamo fatto come aziende in questi mesi è stato caring, prenderci cura della sicurezza delle persone, del benessere, della continuità, dello stato anche psicologico, delle condizioni di lavoro complessive, perché poi non è solo la tecnologia l'aspetto abilitante, ma è permettere a persone di lavorare appunto da casa in un contesto spesso molto complesso, di spazi ridotti, di rumori, quindi molto diversi rispetto agli uffici. Quindi è una sfida importante appunto per le aziende, penso che la flessibilità sarà un elemento anche qui abilitante in futuro. Oggi si parla spesso di diritto alla disconnessione, il diritto alla disconnessione è chiave, noi abbiamo vissuto in questi mesi dei casi in cui lo smart working era hard working, cioè persone che iniziavano con l'alle 8 del mattino e chiudevano il pc all'una di notte, quindi dei casi veramente estremi. Questo va evitato, bisogna tornare a una dimensione di rispetto del lavoro, delle sue regole, delle persone, ovviamente in un'ottica di flessibilità. Dubito che in un futuro sarà ancora valida l'ottica della settimana su 5 giorni, quindi penso che andremo su scenari molto più flessibili. L'altro aspetto fondamentale è un po' rivedere i modelli di leadership, cioè oggi quello che viene richiesto in questa condizione è di creare delle condizioni di fiducia rinnovata, quindi io capo so che tu lavori anche se non ti vedo, quindi avere dei sistemi di performance management che davvero poggino più sulla misurazione di risultati ottenuti e di modalità con questi risultati sono ottenuti, che non appunto di osservazione, di presidio anche fisico delle condizioni di lavoro. C'è un aspetto non banale, prima dicevo per il people centricity, che è un po' l'esigenza di coniugare aspetti di vita personale e aspetti di vita professionale, che sono stati estremamente acuiti in questa condizione, quindi la cura dei figli, anche il rispetto dell'ambiente, quindi una mobilità ridotta di tempi appunto di percorrenza casa-lavoro e viceversa. Ecco, queste ritengo siano le sfide complessivamente. La ringrazio, io per chiudere vorrei fare, come già detto prima, un'ultima domanda all'avvocato Stucchi. Allora, quali sono, secondo lei, gli aspetti positivi che magari le aziende possono, devono gli elementi positivi che devono tener conto tutte le imprese che vogliono creare nuovi modelli organizzativi? Allora, ci sono due dati strutturali che sono stati intascati dalle imprese. Primo, è possibile la business continuity anche in un momento di emergenza massima. Questo nel momento in cui vi sono ottime infrastrutture tecnologiche, quindi le aziende devono ricordare questa lezione. Secondo, è stato fondamentale mantenere l'engagement, giusto per usare un anglismo, engagement ma anche involvement. Quindi il coinvolgimento di quella che è la forza lavoro a tutti i livelli nel mantenere un'azienda operante, operativa, per quelle aziende che hanno potuto operare, magari anche pro quota, perché poi abbiamo altre aziende che soffrono una crisi terribile. Qualcuna ha perso fino al 60-70% del fatturato. Tante micro realtà hanno chiuso. Non dimentichiamoci questo, perché noi stiamo parlando di futuro, ma abbiamo un presente oggi che è difficilissimo, che è coperto tante volte dal divieto di licenziamento. Questo è un altro aspetto molto cruciale, però è una coperta corta ed è un gioco che non può durare a lungo. Lezioni per il futuro. Allora, sicuramente engagement, involvement e capacità forte di leadership del management, quindi capacità di fare squadra, il che vuol dire pensare ad un ambiente di lavoro, a relazioni di lavoro non più basate sulla gerarchia, ma basate sul coinvolgimento, partecipazione. L'altro elemento, lo dicevamo prima, è quello di forti strutture tecnologiche, quindi l'infrastrutture, capacità di fare squadra, capacità di saper creare valore. Questo è un concetto fondamentale per il futuro, perché deve cambiare il paradigma di come è stato inteso finora il rapporto di lavoro. Se vogliamo, con un metodo un po' marziano, ottocentesco, un po' figlio della lotta di classe, nella contrapposizione, bisogna passare a un metodo compartecipativo, perché la creazione di valore genera un obiettivo comune, un bene comune. È figlio di una visione dell'impresa come strumento per il benessere di tutti i suoi partecipanti. Allora, se siamo capaci di guardare nel futuro, che non è domani, e dopo domani è anche molto più in là, saremo capaci di avere una nuova visione del mondo del lavoro, figlio di una nuova visione del mondo dell'impresa e della funzione dell'impresa, che è sicuramente di creare profitto a beneficio di tutti, ma anche una funzione sociale, perché i posti di lavoro non si creano con le leggi, le creano le aziende, le creano le aziende che stanno bene, le aziende che non stanno bene, i posti di lavoro li tagliano, se non addirittura chiudono, e allora è una perdita di valore per tutti. C'è una necessità fondamentale, cambiare proprio i paradigmi. La ringrazio, mi sembra un'equazione abbastanza di buon senso, questa chiusura molto bella. Io ringrazio così i miei ospiti in studio, e ringrazio la dottoressa Borromei per essere stata qui con noi e per il suo intervento. Ringrazio ovviamente l'avvocato Limpio Stucchi. Pochi minuti di pubblicità e poi restate qui con noi perché inizierà la seconda parte del doppio binario. A tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di doppio binario. Continuiamo a parlare di nuova organizzazione del lavoro, ma questa volta concentrandoci sulle relazioni industriali. È chiaro infatti che appunto si è aperta e si aprirà una nuova stagione, dato che la maggior parte delle imprese continuerà anche in futuro a fare conti con questa nuova organizzazione del lavoro fondata sul lavoro agile. E poi al di là di quello che verrà deciso, come detto anche in precedenza, per la deadline del 15 ottobre, si dovrà aprire una stagione di anche revisione degli accordi vigenti in azienda. E qui entrano in gioco chiaramente le parti sociali. Ma ecco, che tipo di stagione ci aspetta? Che tipo di stagione aspetta soprattutto le imprese? Quali le criticità? E insomma, qual è lo scenario che si prevede per le nuove relazioni industriali? Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento. L'avvocato Limpio Stucchi, di nuovo con noi, Uniolex, che saluto anch'io e benvenuto anche da parte mia. Grazie. E Alfredo Lombardi, HR Director, Tacchè d'Italia. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Altrettanto, buon pomeriggio, buongiorno a tutti e due. Ecco, in collegamento. E io partirei da lei, avvocato Stucchi. Insomma, l'emergenza Covid ha fatto emergere alcune ombre sul sistema lavoro. Da una parte vediamo l'incremento delle responsabilità per quello che riguarda le imprese e dall'altra appunto anche la difficoltà a ricorrere, a modificare i contratti in modo più flessibile. Le chiedo quindi quali sono i segnali d'allarme che non possono essere sottovalutati dalle aziende e quali anche dalle parti sociali. Prego. Grazie. Allora, di segnali d'allarme in questo periodo così difficile ne abbiamo una tale quantità che è difficile anche fare una lista. I primi allarmi sono di tipo economico-sociale. Ci sono aziende che hanno perso 60-70% del fatturato. Altre imprese hanno dovuto chiudere. Ci sono settori in crisi sistemica. Pensiamo per esempio al turismo, alla ristorazione, pensiamo ai trasporti. E questo è un tipo di problema. Un secondo tipo di problema invece riguarda le aziende che hanno una filiera produttiva non indispensabile, che a poco a poco deve riprendere. Un terzo tipo di problema invece può riguardare quelle imprese che non si sono mai fermate. Tutte però hanno e avranno problemi di tipo economico, perché il contesto economico è mutato. Sono crollati drammaticamente i consumi, con tutto quello che ne consegue a livello di PIL. Detto questo, le aziende devono far fronte e fare i conti con la situazione del rispettivo comparto e del rispettivo mercato. Poi devono far fronte a ulteriori segnali d'allarme interni, perché il lavoro non è più quello che era. C'è una paura generalizzata del contagio, tale per cui i lavoratori hanno paura a lavorare in azienda. I sindacati seguono questo tipo di paura, ovviamente nell'interesse dei lavoratori. Quindi le aziende hanno dovuto attrezzarsi con delle cautele molto particolari per far fronte ad una operatività continua, la cosiddetta business continuity, laddove non è stato possibile ricorrere allo smart working. Quindi in questo quadro noi ci troviamo con dei rischi sistemici di tenuta delle aziende. E sono rischi grossi, perché se il sistema delle aziende non riesce a dare una sua continuità a un normale ciclo operativo, che sia produttivo o di commercio o di servizi nel terziario, e poi dopo c'è una pesantissima ricaduta in termini di PIL. Poi ci sono dei problemi, dei segnali che devono riguardare ancora di più le parti sociali. Quindi parti sociali da intendersi come aziende e come parte sindacale. Perché abbiamo avuto in questo periodo il blocco dei licenziamenti, pur a fronte di una situazione economica di tipo emergenziale. Lo Stato in questa congiuntura ha fatto con le aziende una sorta di patto scritto di vieto di licenziamento contro accesso alla cassa integrazione, trasferendo sulle casse dello Stato il costo dei lavoratori. Ma questo è un patto che non può durare a lungo, perché le casse dello Stato, che già sono abbastanza esangui di loro, non possono nel lungo periodo mantenere questo tipo di costo ulteriore. Quindi prima o poi il blocco dei licenziamenti dovrà venire meno. Allora ci sarà un grosso problema di tipo sociale, perché il taglio dei posti di lavoro sarà veramente molto, molto importante. Anzitutto in quei settori di cui abbiamo parlato prima. Per le aziende invece che hanno continuato ad operare, c'è una necessità importantissima, quello di avere chiarezza sulle regole del gioco, sulle norme che si devono applicare. Un esempio per tutti, fino al decreto di agosto non era chiaro se i Td, i contratti a termine, erano ancora, erano ritornati ad essere a causali come era prima del decreto dignità. Fortunatamente col decreto agosto questo nodo si è sciolto, perché col decreto di maggio invece era rimasto un po' nel limbo. Allora, in questa situazione complessiva, dove ci sono dei rischi che sono aziendali, ma a tendere potrebbero diventare sistemici, c'è una necessità di fare un nuovo patto aggregante tra tutte le parti sociali, che metta l'impresa e il lavoro al centro di tutto l'universo economico. Quindi una sorta di accordo, di cooperazione tra tutti i soggetti in gioco nel settore economico per uscire dall'emergenza e superare quella che è stata la logica sindacale di contrapposizione vecchia di oltre 50 anni. 50 anni di statuto dei lavoratori ci ha portato a una costante contrapposizione azienda-lavoratori, quando invece l'approccio corretto è quello di cooperare per stare insieme e creare lavoro, in questo caso per andare oltre l'emergenza, quindi per andare oltre il rischio. Certo, ecco, e in questo senso chiedo al dottor Lombardi, dato che appunto Takeda, chiaramente appartenendo a un ramo farmaceutico, è una di quelle aziende che appartengono alla filiera che ha continuato ad operare anche nel periodo del lockdown. Per cui le chiedo appunto, insomma, quali sono le criticità che sono emerse e come affrontate questa nuova stagione, appunto, anche con i sindacati. Prego. Grazie, grazie della domanda e tra l'altro molto interessanti gli spunti che l'Avvocato ci ha lanciato perché la sua parte di chiusura è secondo me la parte più stimolante guardando al futuro perché sicuramente ormai il passato è stato e quindi è inutile cercare di capire cosa è stato fatto bene e cosa è stato fatto male, però sicuramente dobbiamo guardare al futuro perché è l'unico modo per far ripartire l'organizzazione e far ripartire anche l'economia che presenta segnali sicuramente preoccupanti. Noi siamo stati uno di quei settori che ha continuato a lavorare e quindi abbiamo avuto la sfida organizzativa nel giro praticamente di un giorno o di pochissimi giorni di passare da un'organizzazione basata essenzialmente sul lavoro d'ufficio anche se avevamo già attivato lo smart working con tutti i necessari accordi a un'organizzazione essenzialmente home working quindi dove tutti quanti operavano essenzialmente da casa. Devo dire che, e lo possiamo dire anche a posteriori, che sicuramente la nostra organizzazione ha retto e come la nostra hanno retto moltissime organizzazioni e questo devo dire col seno di poi a dispetto di tante difficoltà che potevamo immaginare non è stato facile. Devo dire anche dall'altra parte che in quel periodo era tale la preoccupazione che anche in termini di relazioni industriali tutti hanno collaborato a che ciò accadesse c'è stato un alto livello di sensibilità abbiamo affrontato delle sfide perché anche se noi siamo stati fra i settori che hanno continuato a operare l'impatto economico lo abbiamo e lo stiamo subendo anche noi come voi potete immaginare il Covid l'ha fatta da padrone anche nel mondo della sanità per cui tante altre patologie in questo momento sicuramente sono passate in secondo piano e anche questo in termini di filiela farmaceutica sta dando dei contraccolpi. Noi confidiamo che prima o poi si ritorni a una nuova normalità è ovvio che questa nuova normalità terrà conto dal puntista anche organizzativo di tutte le esperienze che abbiamo fatto in questo periodo. Ci saranno cose che volentieri butteremo tra i ricordi e non le utilizzeremo più però ci sono sicuramente una serie di esperienze che abbiamo fatto in questo periodo che sono state apprezzate hanno fatto scoprire che non erano così terrificanti per l'organizzazione aziendale anzi avevano anche delle ricadute positive e quindi sicuramente andremo a replicare e a portarci dietro queste esperienze. Questo richiederà una grande collaborazione anche in termini di relazioni industriali. È ovvio che molte nostre normative lavorando in una multinazionale e confrontandomi con colleghi di altri paesi sono normative particolarmente farraginose. L'avvocato ci può tenere una lezione di quanto è complicato fare un accordo di smart working con un singolo lavoratore. Lei immagini quando l'azienda ne ha centinaia se non migliaia quindi non le sto a raccontare il lavoro burocratico immenso che abbiamo dovuto realizzare con grande fatica per individualizzare dipendente per dipendente i vari accordi perché? Perché chiaramente come rischiavamo di essere spiazzati a fine luglio quando non si sapeva se avrebbero prorogato anche qui ci siamo attrezzati perché non sappiamo dopo il 15 ottobre cosa accade però è chiaro che un accordo sindacale che regola uno smart working su base volontaria pensato non per il periodo covid in quello che deve essere un accordo di smart working che deve essere aperto anche a passare da uno o due giorni a settimana a cinque giorni a settimana nel caso arrivi un blocco di qualunque tipo questo chiaramente anche dal puntista giusto lavoristico ha delle complessità in termini di verbalizzazione di accordo che l'avvocato sicuramente conosce quanto è più di me e questo ci fa vedere la complessità che noi dobbiamo applicare se la vado a comparare non voglio dire con i colleghi americani ma anche altri paesi europei dove lo smart working è un qualche cosa che non è nemmeno normato è un qualche cosa che fai non fai in base a quella che è la tua organizzazione noi siamo stati costretti a attrezzarci in maniera rocambolesca ma immagino insomma organizzazioni anche molto più grandi della nostra è ovvio che questo richiederà quindi anche dal puntista delle relazioni industriali della normativa che vi ha alle spalle una flessibilità e un ripensamento anche dal punto di vista proprio delle relazioni industriali fare relazioni industriali in un'organizzazione dove molte persone non sono più nello stesso luogo sicuramente è una novità anche per i colleghi del sindacato con la quale loro stanno incominciando a familiarizzare ma questo richiederà del tempo certo quindi chiaramente la nuova normalità legata al lavoro agile dovrà gioco forza essere tradotta anche dal punto di vista normativo nel senso che la legge del 2017 ovviamente non è aggiornata insomma alla contingenza ma intanto avvocato quali sono i passi che possono che devono fare le imprese lungimiranti e che passano necessariamente come diceva il dottor Lombardi da una revisione degli accordi vigenti in azienda allora i passi che possono fare le aziende purtroppo devono fare il conto col quadro normativo che noi abbiamo e questo è un elemento fondamentale se vogliamo una zavorra importantissima per tutte le aziende italiane ben diceva il dottor Lombardi nel momento in cui ci si va a paragonare filiale italiana e casamadre americana o casamadre nel loro caso mi pare giapponese con filiali americane ma è chiaro che la filiale americana può correre e quella italiana invece deve tenere il passo ma deve tenere il passo perché è zavorrata da un impianto normativo penalizzante e innanzitutto questo deve cambiare va ripensato il modo in cui strutturare il diritto del lavoro noi oggi abbiamo una legislazione che per la maggior parte è di tipo cogente imperativo non derogabile abbiamo poi una contrattazione collettiva che è nazionale cioè una sorta di abito conformato che va bene per tutte le aziende poi abbiamo qualcosa di residuale per arrivare buon ultimo ai famosi e tanto vituperati accordi di prossimità che poi si fanno ma non si dice perché il sindacato non vuole far sapere che li ha firmati allora la contingenza covid ha fatto capire che al centro del mondo del lavoro ci sono le imprese e i lavoratori sono loro il fulcro del mondo del lavoro non è lo Stato che fa le leggi non è il sindacato su base nazionale è il sindacato su base aziendale perché è la controparte naturale dell'azienda quello che conosce la realtà dell'azienda quello che è in grado di capire quali sono le regole del gioco più adatte al caso quindi qua bisogna proprio ripensare tutta la logica delle relazioni industriali per portare al centro di tutto gli accordi su base aziendale tra l'azienda e il sindacato come soggetto rappresentativo degli interessi dei lavoratori di quell'azienda perché il futuro è fatto sicuramente di innovazione di trasformazione ma anche di agilità di rapidità di intervento ma cosa facciamo stiamo a aspettare il legislatore nazionale che sta facendo adesso legare per andare ad acquistare i test rapidi adesso ma ce n'era bisogno mesi fa non adesso cioè il legislatore è un ente lontano dalla realtà il sindacato anche quello datoriale su base nazionale è lontano dalle esigenze delle aziende anche il territoriale non è così vicino sono le stesse aziende con supporto degli enti rappresentativi su base locale a poter sapere qual è la piattaforma di discussione più giusta e più adeguata qual è il modello maggiormente fit per le proprie esigenze il sistema delle relazioni industriali deve essere ripensato cioè dobbiamo veramente mandare in pensione una volta per tutte lo statuto dei laboratori la legislazione precedente per esempio la legge 604 del 66 che è del 66 io ero bambino avevo 6 anni oggi ho solo capelli bianchi però è ancora lì quella legge è lì e ci facciamo i conti tutti i giorni poi è stata ritoccata leggermente lo statuto ha 10 anni meno di me c'è 50 anni e li porta anche male perché è stato costruito sulla base di un'esperienza tipicamente industriale della fabbrica fordista ma oggi dove sta la fabbrica fordista ma una legislazione vecchia vecchia stravecchia dobbiamo farne a meno silenziosamente perché certe cose si fanno ma non si dicono dobbiamo pensionarlo prepensionarlo non gli diamo la quota 100 gli diamo la quota 50 e lo mandiamo nel dimenticatoio nel cassetto e ci vuole aggiornare la legislazione facendo anche una legislazione sulla materia sindacale che preveda i diversi gradi di sussidiarietà cosa che oggi non c'è perché l'unica norma avente rango di legge che riguarda la materia e il diritto sindacale sta nella Costituzione fine certo dottor Lombardi cosa ne pensa non si può aspettare il legislatore non posso che dare d'accordo essere d'accordo all'avvocato perché se lui ne aveva 6 io ne avevo 8 per cui insomma siamo lì quindi è chiaro che servirebbe una nuova marcia dei 40.000 perché lui l'avvocato ha citato due cose fondamentali agilità in velocità lo stesso legislatore che chiedeva a noi del settore privato anche perché l'avremmo fatto comunque per sopravvivere di attrezzarci velocemente per continuare a lavorare con il lockdown era quello che per i propri dipendenti all'interno di tutto il settore pubblico partiva praticamente dall'età della pietra quindi tutta una serie di cose che il legislatore dava come indicazioni i vari dpcm venivano applicati nel settore privato ma non venivano poi applicati nel settore pubblico però detto questo sicuramente la velocità in cui avvengono i cambiamenti la velocità con il quale il mercato il mondo che ci circonda ci chiede di operare ricordiamoci che l'obiettivo delle aziende non è restare in piedi l'obiettivo delle aziende è di essere competitive perché un'azienda che resta in piedi è un'azienda già morta o comunque sta per morire quindi certe volte si chiede alle aziende per il sol fatto che sono ancora in piedi di fare tutta una serie di cose ma quell'azienda è un'azienda già avviata alla chiusura le aziende devono essere competitive perché se non sono competitive come qualunque essere vivente su questa terra è destinata a scomparire quindi anche in questo le relazioni industriali devono seguire il passo e l'esperienza che abbiamo fatto un'esperienza che ci saremmo risparmiati volentieri sia dal puntista umano che dal puntista collettivo però sicuramente qualche cosa ce l'ha insegnata che dobbiamo essere sempre agili e pronti a reagire a qualunque situazione di contesto nella quale veniamo a trovarci quindi su questo anche le relazioni industriali devono essere delle relazioni assolutamente improntate alla massima correttezza perché il nostro obiettivo proprio per essere competitivo è quello di avere dei collaboratori motivati preparati e formati sotto tutti gli aspetti e su questo aziende come la nostra investono moltissimo però nello stesso tempo una capacità proprio perché le decisioni si prendono in prossimità di gestire una serie di situazioni nelle quali il legislatore invece ci dà dei tempi delle regole e dei vincoli che sono pensati come diceva l'avvocato in epoca in cui veramente le fabbriche erano fabbriche di tipo di tipo fordistico quindi sicuramente questo locale in un settore ad alta ricerca come il nostro sicuramente è qualche cosa di a dir poco antico certo ecco quindi insomma speriamo veramente che si apra una nuova stagione relativa appunto alle relazioni industriali al di là poi delle scelte degli interventi del legislatore che effettivamente sta mostrando un po' di ritardo come ricordavate entrambi io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi l'avvocato Olimpio Stucchi di Uniolex grazie a voi per l'invito il dottor Alfredo Lombardi Tacchè d'Italia grazie altrettanto è stato un piacere arrivederci a tutti arrivederci grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati con noi appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario